Il libro di Paolo Zagami Io penso che intanto il tema sia particolarmente importante perché associa opportunamente il problema della scarsa attrattività del nostro territorio, soprattutto quello meridionale, con il problema delle mancate riforme. È chiaro che le due cose sono fortemente legate, quindi le riforme non servono solo alle imprese domestiche, ma serve anche ad attirare capitali, imprese e imprenditorialità dall'estero. Quando noi parliamo di una difficoltà del sistema delle imprese italiane a essere attraenti a livello internazionale, proprio per i capitali che possono essere investiti in Italia, che cosa manca secondo lei e che cosa si può fare in prospettiva? Una prospettiva che però non deve essere troppo a lungo termine, diciamo almeno a medio termine, perché questo penso ha bisogno di risollevarsi. Sì, intanto distinguerei. Le imprese italiane sono molto attrattive perché sono imprese di qualità, hanno tecnologie, hanno prodotti che attirano imprese multinazionali. Quello che è poco attrattivo è il contesto, per cui un'impresa difficilmente, quindi bisogna distinguere tra imprese che vengono a investire acquisendo imprese domestiche, da quelle che vengono a investire, come si dice, con investimenti greenfield, cioè costruendo ex novo degli stabilimenti e creando nuova occupazione. Ecco, da questo punto di vista siamo carenti, c'è bisogno di fare molti passi avanti, soprattutto direi sinteticamente, credo che al di là, diciamo, di altri fattori che certamente non ci vedono nei primi posti, ma l'incertezza che regna su ogni decisione, vuoi per l'eccesso di burocrazia, vuoi per i troppi livelli di governo, vuoi anche per i cambiamenti politici che non assicurano la continuità, vuoi per una giustizia troppo lenta che scoraggia gli imprenditori. Ecco, quindi le riforme in questi settori sarebbero fondamentali. Proprio sulla giustizia lenta ci diceva qualcosa Marvazi e qui viene un po' il nodo della questione, no? Anche il fatto che siano stati fatti investimenti per lanciare le famose start-up, però è un controsenso pensare che la start-up dovrebbe partire facile e veloce, invece poi ci sono degli impedimenti. Quindi ai giovani che cosa possiamo dire? Perché non perdono fiducia e speranza? Assolutamente no, ci mancherebbe altro. Le start-up oggi sono importanti, non si è mai parlato tanto di start-up come oggi, per un motivo molto semplice, perché siamo nel bel mezzo di un incredibile cambiamento tecnologico, per cui prodotti che erano sul mercato qualche anno fa o tecnologie operanti qualche anno fa oggi rischiano di essere obsolete. Quindi c'è bisogno di introdurre innovazioni, di introdurre nuovi prodotti per essere competitivi. Quindi tutto ciò che si può fare per non solo favorire start-up, perché non dobbiamo dimenticare poi che a fronte di dieci start-up ce n'è una che va avanti e cresce, è già un ottimo risultato. Quindi non basta avere una buona idea, un nuovo prodotto, bisogna che poi questo si tramuti in un'impresa che è in grado di crescere, di aumentare l'occupazione e di esportare. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei.